ciao a tutti ragazzi e benvenuti sullele king tv quest'oggi vi mostro la mia collezione di gommaie le prenderò a caso da qui dentro questo tutte diverse una dall'altra però le andiamo a vedere così riusciamo a capire anche che squadra ci mancano alla prima pescata il torino poi fiorentina inter bologna roma crotone juventus samp napoli cagliari atalanta sassuolo ragazzi voi sotto nei commenti scrivetemi quale con maglie mi mancano a voi invece ragazzi che sono curioso parma genoa e milan ok quindi ne abbiamo 15 su 20 squadre quali con maglie mancano adesso lo andiamo a vedere allora l'atalanta l'abbiamo trovata la cancelliamo aspettate prendo un pennarello che scrive meglio quindi atalanta ce l'abbiamo non scrive in cavolo ne manco questo comunque tanto per per capirci qualcosa poi benevento ci manca il bologna ce l'abbiamo poi il cagliari ce l'abbiamo il crotone sì c'è quindi ci manca benevento per adesso la fiorentina ce l'abbiamo il genoa c'è l'ella severona ci manca l'inter c'è quindi ci manca benevento della severona per adesso juventus ce l'abbiamo lazio ci manca e siamo a tre poi abbiamo il milan c'è il napoli c'è il parma c'è la roma c'è la samp c'è il sassuolo c'è lo spezia e sono quattro il torino c'è e la quinta è l'utinese quindi ci manca benevento verona spezia udinese e lazio queste sono le gommaglie che ci mancano per completare la collezione ok ragazzi questo è il punto sulla collezione delle gommaglie queste sono le mancanti diciamo così ho qualche doppione a pare 3 3 gommaglie doppione una della roma una del parma e poi non mi ricordo se forse quella dell'atalanta non mi ricordo di preciso comunque ho veramente pochissimi i doppioni ragazzi io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao